Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPILI un chilometro di coda per veicolo in avaria tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, per lavori e rallentamenti tra la Strassigna e Montelupo in entrambe le direzioni. Ricordiamo che è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno fino al 15 novembre e l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze fino all'8 dicembre. Il cantiere sulla FIPILI chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi sulla SP12 e sull'autostrada A11. Prima di salutarci segnaliamo che sulla Siena Firenze c'è uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze e Buon Viaggio! Grazie a tutti!